Campo Santo, in dialetto locale Camp Cent, 3200 abitanti. Siamo nella bassa padana, 21 metri, sul livello del mare. Una località famosa per quanto riguarda le attività produttive, agricole, industriali, ma famosa soprattutto per la presenza di un grande artista che quest'oggi presenterà all'auditorium Rita Levi Montalcini un suo docufilm, Le storie dell'arte. E' qui con me, è ormai un volto noto anche dei nostri punti di riferimento televisivi, Giuseppe Menozzi. Grazie Menozzi. Intanto io ringrazio voi perché siete venuti a fare questo servizio, a cui io tenevo in modo particolare perché vi conosco da tanti anni, ma io sono onorato di tutta questa situazione che la produzione, la Regione Emilia Romagna, l'Unione dei Comuni della Bassa e il Comune di Camposanto abbiano voluto l'anteprima di questo docufilm esattamente qui, nel nostro territorio, a Mirandola. Quindi è un onore per me poterlo fare e poter portare un messaggio, secondo me, di, mettiamolo tra parentesi, un po' di cultura per quello che riguarda il mio settore, anche qui nelle nostre zone. Beh, sicuramente le storie dell'arte, questo è il nome del docufilm, sarà soltanto, non soltanto un docufilm autocelebrativo, ma sarà un'ispezione attenta su come fare l'arte e soprattutto su come far recepire, anche perché è del tutto soggettivo la ricezione dell'arte in maniera di emozioni personali a tutti coloro che ne fruiscono. Le storie dell'arte è stato creato da Emanuele Amorozzi e da Riccardo Canini e anche Paolo Coviello che presenterà insieme alla stessa Amorozzi questo grande happening appuntamento. Ora, mi punge vaghezza, come dicono quelli che parlano bene, non noi, per chiarità, caro Menozzi, di fargli una domanda. Allora, Camposanto, quando uno diceva che Camposanto pensa a un luogo funebre, invece qui c'è una, non è una leggenda, ma sono dati storici, non proprio ufficiali, che venga dato questo nome da Santi, che è una famiglia nobiliare nominata, investita come tenutari di questa realtà a sud di Ferrara dagli este. È vero? Ma io credo che sia in parte così. Ho sentito anche io un paio di versioni. Io ho sentito che si chiamava in origine Campo dei Santi, proprio legato a questa famiglia nobile probabilmente e poi è diventato Camposanto. Quindi credo che sia proprio così la questione. È legata a questa cosa, secondo quello che penso io. Beh, chissà che magari tra un secolo e mezzo lo potremmo chiamare Campomenozzi, chi lo sa? Questo è considerato che adesso è un punto di riferimento. Facciamo vedere la Locandina per quanto concerne questo appuntamento che ci vedrà protagonista e questa sera vedrà protagonista soprattutto Giuseppe Menozzi e le storie dell'arte di Emanuela Morozzi e Riccardo Canini presentato da Paolo Quaviello ed Emanuela Morozzi all'auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola. Siamo vicino Modena, siamo in queste zone colpite dal sisma, ma fortemente audaci, forti, pregni di grande voglia di fare e di rinascere. E allora adesso noi andiamo a visitare il comune, il municipio, conosceremo il sindaco che è una donna, Monia Zaniboni, che già ci attende in piazza e noi ci vediamo a Mirandola. A Mirandola, benissimo. Io voglio fare solo un ringraziamento speciale a una persona che quest'oggi, questa sera non ci sarà per motivi familiari e robe del genere. Volevo ringraziare l'assessore Palmacosti perché è un'amica carissima, siamo un po' cresciuti insieme, lei poi è diventata assessore, ma ha sempre avuto una stima e io ho sempre avuto una stima di lei straordinaria ed è stata una delle artefici di quelle persone della regione che hanno inciso affinché questa cosa venisse qui. Io volevo ringraziarla pubblicamente. Bene, il ringraziamento è arrivato, arriverà anche attraverso le nostre telecamere. Menozzi, che dire, ci andiamo a fare, qual è il piatto tipico di Camposanto? Beh, c'è la pasta con ragù, i maccheroni con ragù. Allora ci andiamo a fare due maccheroni a ragù, come si dice in dialetto? Maccheron con ragù. Maccheron con ragù, un demo, un demo, un demo, un demo. Siamo davanti al comune di Camposanto, Campsaint, come dicono gli abitanti, poi mi correggeranno se la mia dicitura è errata, anche come pronunzia locale. Camposanto è un comune di 3.200 abitanti, gravemente danneggiato dalla sisma del 29 maggio del 2012, ricostruito secondo le tecniche, i criteri e i tempismi che hanno visto l'Emilia primeggiare per quanto riguarda il riavvio non soltanto della ricostruzione, ma anche delle attività sociali ed economiche. Noi abbiamo qui con noi il primo cittadino, il sindaco Moni Azzariboni e un giovane assessore, pensate, classe 1996, possiamo dirlo tranquillamente, candidato praticamente ad un lungo corso politico. Mi auguro. E vedremo, insomma, per questo, intanto facciamo l'assessore per i prossimi tre anni e mezzo. Poi vedremo. I prossimi tre anni e mezzo, anche perché vi siete insediati nel 2018, Andrea Resca, che è l'assessore alla cultura, sport, politiche e sociali, ho dimenticato qualcosa, qualche delega? Giovanili e volontariato. Giovanili e volontariato, ecco ci mancava. Allora io comincerò subito con la signora Zaniboni, sindaco, noi non ci piace chiamarli sindaco con la O finale, perché a Roma la Raggi ha lanciato un'altra moda che va a cozzare un po' con l'Accademia della Crusca. Allora, sindaco Zaniboni, oggi noi siamo venuti a Camposanto, in quest'area nord dei comuni dell'Alto Modenese e della Bassa Padana, come abbiamo già detto, perché qui, oltre a parlare di costruzione, c'è un grande artista che rende alto il nome di questa località in tutto il mondo, che è il bravissimo pittore Giuseppe Menozzi. Ecco, un orgoglio per questa piccola città. Assolutamente, il maestro Menozzi ci ha contattato, l'abbiamo contattato qualche mese fa proprio per cercare di costruire un evento per celebrarlo. Per noi è un onore, un onore in quanto effettivamente è difficile essere a volte profeti in patria. Quasi impossibile. Esatto, quindi assolutamente ci siamo impegnati, infatti anche l'assessore Resca è stato assolutamente di supporto per cercare di creare questo evento e appunto perché è un'eccellenza, abbiamo coinvolto sia la Regione, patrocinato l'evento dalla Regione Emilia-Romagna e dall'Unione dei Comuni dell'Area Nord, proprio perché la cultura per noi è una cosa fondamentale assolutamente da sensibilizzare e da far conoscere. Io mi sono messo da quest'altra angolazione anche per guardare meglio l'assessore perché lei, caro sindaco, ha detto una cosa molto importante, un orgoglio per la nostra città. Giuseppe Menozzi è conosciuto in tutto il mondo, è stato a Berlino, esporta anche in uno Stato degli Stati Uniti, credo sia proprio Rhode Island e ha avuto un grande seguito proprio di sostenitori e di critici che lo hanno applaudito e lo hanno recensito con magniloquenza, così diciamo. Cosa che non succedeva nel passato, non siamo tanto distanti dal Reggiano e da Guastalla che ha dato i Natali a un grande pittore naif del passato che è Ligabue, Tony Ligabue. Ce lo ricordiamo anche da una seriale che la RAI mandò in onda nel 1977 egregiamente interpretato da Flavio Bucci. Sono passati fortunatamente questi tempi, Andrea non era nato, ma ecco avere adesso queste nuove generazioni, come ha detto il sindaco Zaniboni, che praticamente incentivano e sono praticamente, come dire, delle bandiere di questi grandi artisti è importante anziché relegarli, come di, a quella, il matto del paese perché a volte venivano chiamati così Menozzi per carità, non è strano e strampalato come era Ligabue, però devo dire è un artista con la maiuscola. Assolutamente sì e noi siamo veramente molto felici che appunto questo importantissimo evento possa appunto celebrare la sua arte, la sua vita e le sue opere, dato che comunque ha ottenuto dei risultati importantissimi in Europa, ma non solo. Questo veramente, guardi, è una nota da sottolineare perché anche nei piccoli centri i poeti, i diversi, i creativi, non sono visti bene, soprattutto nei piccoli centri della provincia, quella legata alle grandi metropoli, qui siamo un po' distanti da Bologna, però anche nella Guastalla, che ribadisco non è tanto distante da qui, nella provincia dell'Alta Padana del Reggiano, tra Reggio Emilia e la bassa Lombardia, credo fosse la provincia di Manto, ma anche lì Tony Ligabue non era visto bene, mentre voi con Menozzi potete dire veramente, finalmente abbiamo qualcuno che è applaudito in tutto il mondo. Quindi Menozzi oggi qui a Camposanto, meglio ancora, Mirandola presso l'auditorio Marita Levi Montalcini, presenta addirittura un docufilm sull'arte, tutto da vedere. Quindi una sorta di florileggio. Lei ha visto già qualcosa in anteprima, Sindaco? No, no, assolutamente vogliamo vivere l'emozione in diretta e sì, noi questo appunto evento è un modo per restituire qualcosa a Menozzi, in quanto con la sua arte ha dato lustro al nostro territorio e questo suo talento deve essere assolutamente riconosciuto e noi possiamo semplicemente dirgli grazie a Giuseppe. Siamo all'interno dell'auditorium Rita Levi Montalcini di Mirandola nell'area 29 Maggio, all'interno dove si svolge questa sorta di vernissage, non è il caso di dirlo per quanto riguarda i docufilm, ma visto e considerato che abbiamo un artista di grande mole, di grande fama mondiale, usiamo quella che è la terminologia pertinente. Giuseppe Menozzi, Giuseppe Menozzi io impazzisco quando vede i suoi folare perché mi ricordano certi soul club in americani che stanno tra Los Angeles e il Minnesota dove si suona soul e le pareti sono tappezzate con queste locandine. È una cosa particolare che mi diceva viene fatta in zona? Sì, no, beh questo qui è un prodotto, grazie a Dio lo posso dire perché mi è stato dato da Michele Crocitto che cura il merchandising anche mio ma anche dei grandi artisti del passato quindi Van Gogh e Cezanne, Ghosn, quindi loro fanno queste cose che sono secondo me bellissime e me l'ha dato, secondo me è un bel prodotto. È bellissimo perché se ci avviciniamo vediamo anche che ci sono proprio degli hotel, è fatto con tanti hotel d'Italia, è bellissimo perché peraltro è la cromatura che è una cromatura molto particolare, per un grande artista come lei devo dire che calza a pennello e gli dà questa sorta di naif, di originalità, peculiarità che la distingue. Allora oggi verrà presentato questo film documentario, le storie dell'arte che è stato fatto a due mani da Riccardo Canini e da la signora Morozzi, abbiamo un'invasione della sorella di Menozzi che chiede gli autografi anche alla sorella, è pazzesco. Allora le storie dell'arte, che cosa sono le storie dell'arte? Allora intanto io credo, cioè io non sono, è stata un'idea dell'Emanuela Morozzi con la collaborazione di Canini che hanno voluto mettere in piedi questa, io credo che sarà, è legato proprio alla storia degli artisti importanti, quelli che hanno vissuto tutta la vita nell'arte e che quindi hanno qualcosa da raccontare perché io ho 52 anni di attività quindi ho cominciato che ero un bambino, avevo 9 anni, adesso ne ho 63, in più di 50 anni ho vissuto quasi metà del Novecento con tutti i più grandi artisti del passato che adesso non ci sono più perché io li ho visti e che adesso sono comunque nei musei che sono comunque quotati tantissimo e che sono storicizzati. Lei ha cominciato quindi alla fine degli anni Sessanta, era un bambino, quali sono stati gli artisti che l'hanno colpita particolarmente, quelli erano gli anni dei grandi pittori di Via Margutta a Roma? Sì, io ho avuto il piacere di incontrare un po' i più grandi degli anni della seconda metà del Novecento perché io ho frequentato per parecchio tempo la Galleria Mazzoli di Modena, erano gli anni Settanta, fine degli anni Settanta, come sapete tutti è stata la galleria che ha fatto partire la transavanguardia nel 1979 e io frequentavo con Achille Bonito, Liva e Mazzoli hanno fatto partire la transavanguardia, io lì ho conosciuto tanti artisti perché la frequentavo, ho conosciuto bene Schifano, ho conosciuto Baschià, ho conosciuto tanti artisti che erano comunque giovani e che frequentavano la Galleria. E lì ha trovato l'ispirazione, ecco qui c'è una sorta di pinacoteca del maestro Menozzi, giustamente la serata è dedicata a lei, quindi lei non ha visto ancora queste storie dell'arte? No. E quindi è una novità anche per lei? Sì, perché... Molti pensano che sia una cosa autobiografica, ma non è così. Devo dire che hanno lavorato tanto e la produzione, sono tante tante ore di ripresa, per poi estrarre, non so se sono 30 minuti più o meno, in un concentrato di tutto quello che è stato un percorso. Quindi anche per me è una sorpresa, penso considerando la qualità di questi grandi autori, registi, che sarà sicuramente una cosa entusiasmante. Ce l'auguriamo, ma sicuramente le siamo convinti anche noi che ci segue da casa, che ormai la conosce perché ha visto le sue opere, ha visto le sue mostre, lei ha esposto un po' in tutto il mondo. Lei è famoso nella Rhode Island, anche degli Stati Uniti, eh? Sì, 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 ho fatto delle manifestazioni anche là, perché avevo una galleria di riferimento. Io, come lei sa, ho esposto anche in tanti paesi d'Europa, cioè a Londra, a Berlino, a Praga, in tantissime località. A Bruxelles? A Bruxelles? Ecco, ci tengo a Bruxelles perché è importante. Io nel 2014 ho fatto una grande personale al Parlamento europeo, proprio il mese prima della partenza del semestre italiano, quindi ho praticamente dato il là a quello che è stato un semestre del 2014 con gestione italiana. Con gestione tipicamente italiana. Bene, Giuseppe Menozzi, ci sarebbe da parlare tantissimo, ecco, ma le sue tele, quanto sono quotate orientativamente? Dipende dai periodi, dipende dai periodi. Io ho comunque messo in evidenza gli ultimi tre periodi, sono i tre periodi fondamentali, perché è un percorso di ricerca molto profondo che dura da tanti anni. Ho fatto la prima linea importante che si chiamano i Cavalieri dell'Apocalisse che non ho più prodotto alla fine degli anni 90. Poi c'è stato un periodo che si chiama l'evento dal 90 al 95, poi sono saltato dentro alla luce che è l'ultima, che è il periodo del Tao e da lì sono ancora dentro. Ed è dentro una dimensione estremamente spirituale. Infatti noi l'abbiamo conosciuta con il Tao a Mantua lo scorso anno, ma anche a Roma nelle varie manifestazioni. Lei fa parte anche del catalogo d'arte moderna Giorgio Mondadoni. Ne ha invitati tantissimi questa sera a questa presentazione di questo film documentario Le storie dell'arte. E sulla storia di Giuseppe Menozzi veramente potremmo fare più di una puntata. Intanto ci contentiamo di questo invito e di questa sorta proprio di, come dire, veicolo integrante di un paese come Camposanto che è tornato alla vita ed è tornato alla ricostruzione grazie anche all'apporto di tanti creativi, non soltanto dal punto di vista politico-istituzionale, ma di gente come lei che è riuscito a ridare nuova luce attraverso le sue opere, ma attraverso anche la sua azione divulgativa dell'arte a queste zone che comunque abbiamo visto hanno avuto una ripresa con il modello Emilia straordinaria. È stato un periodo molto duro e lo sanno tutti, però io devo riconoscere che la nostra regione, io sono emiliano, sono nato a Mirandola e vivo a Camposanto, però sono nato qui in questa località, nell'ospedale di Mirandola. Devo dire che considerando il terremoto è stato molto pesante perché ha raso al suolo parecchi paesi, compresi il centro storico di Mirandola e non solo. A distanza di sette anni c'è stato veramente un intervento molto forte di ricostruzione, le aziende stanno ripartendo praticamente tutte e questo credo che sia un qualcosa di importante e di significativo. Significativo ma anche esemplare per chi invece purtroppo nicchia ancora per capire come fare a ricostruire e mi riferisco ai tanti servizi che con il valido mass streaming stiamo facendo nel centro Italia colpito dal sisma del 2016. Quando si parla di Giuseppe Menozzi si parla di arte moderna e quando parliamo di arte moderna parliamo del più prestigioso e imponente catalogo ufficiale in Italia della categoria che è il catalogo della Giorgio Mondadori. Qui abbiamo il direttore del catalogo d'arte moderna, il dottor Carlo Motta che io rivedo dopo qualche anno, ci siamo incontrati a Roma. Lei viene da Milano e praticamente tra i fiori all'occhiello di questo catalogo ce ne sono tanti. C'è anche il maestro Menozzi. Certamente, devo dire che sono qui con grande piacere perché sia per un rapporto personale che per i rapporti che l'editore, l'editoriale Giorgio Mondadori, che ricordo fa parte del gruppo Cairo, ha con Giuseppe Menozzi. Riflettevo in auto, è ormai otto anni che ci conosciamo con Giuseppe, abbiamo fatto tante cose insieme, due volumi ma soprattutto, lei lo ricordava giustamente, la copertina del catalogo dell'arte moderna numero 51 dove in copertina compare l'opera, se non ricordo male, La Voce del Giusto. Era il 2017, catalogo 2017. No, 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 era il catalogo del 2015. 15, 15. Il catalogo del 2015 è il numero 51, quindi esattamente quattro anni fa l'opera era La Voce del Giusto, una tecnica mista su tela 80%, un'opera che lui realizzò nel 2015, penso proprio per la copertina del catalogo. Quindi è una bella occasione di festeggiare e celebrare insieme Giuseppe che, oltre ad essere un bravissimo artista, è un amico. Beh sì, questa volta ho fatto un po', come dice, di cui non a Roma ci lecca con la memoria, perché praticamente era il 2015 effettivamente. Ho un po' sbagliato la data perché mi ricordo il maestro Menozzi che lo introdusse a Bruxelles quando presentò le sue opere presso l'Unione Europea, proprio il palazzo ufficiale dell'Unione Europea. Vogliamo parlare di queste storie dell'arte, c'è questo film documentario su quelle che sono le storie, quali sono le storie che si trovano attraverso l'arte, che si vivono a livello emozionale? Intanto premetto che non ho visto documentari e sono proprio qui per vederlo, per vederlo e sono molto curioso. Ho appena incrociato Emanuela Morozzi, una dei due registi, molto brava, so che lei è molto brava, so anche che Riccardo Canini, l'altro regista, è pure molto competente e professionale, quindi immagino abbiano fatto un ottimo lavoro e abbiano ricostruito la vicenda artistica, devo dire anche umana, di Giuseppe perché dietro all'artista c'è una persona di grandi qualità. Le storie sono tante, le storie dell'arte sono tante, alcune lo ricordiamo anche un po' tristi e maledette, ricordiamo quella di Modigliani, quella di Van Gogh, ma anche tante altre storie importanti e positive. e voglio dire che Giuseppe Emanozzi è una di queste storie e incarna proprio un modo di interpretare l'arte tutto emiliano che ha portato fortuna a lui perché lui la interpreta in modo positivo. Diamo un'anteprima se può, quale sarà la copertina del catalogo d'arte moderna 2020? Non posso dare questa anteprima perché è un piccolo segreto che ci teniamo riservato ancora un mesetto perché il catalogo andrà in stampa nei prossimi giorni, proprio ieri abbiamo vistato le cianografiche quindi si tratta proprio di attendere poco. Io per morbosità professionale ci ho provato ma non ci sono riuscito. È legittimo e giusto che lei ci provi come giornalista. Grazie a Carlo Motta, direttore editoriale della Giorgio Mondadori del catalogo di Arte Moderna. Da Modena abbiamo un critico d'arte Gianfranco Ferlisi. Io mi sono sempre chiesto ma i critici d'arte sono mossi da quale spirito? Perché a volte sono fortemente avversati dagli artisti stessi. È uno spirito semplicissimo, mediare fra l'artista che ha un mondo complessissimo e che ha degli inneschi della propria creatività estremamente complessi e il pubblico semplificando, razionalizzando, magari provando anche a far capire una cosa assai difficile. Molto difficile. Difficilissimo. Io faccio un esempio. Negli ultimi vent'anni Menozzi ha inserito un elemento nelle sue opere che è il Tau. Allora questo Tau che cos'è? Che determina un ciclo? Il Tau è un elemento simbolico, un raccordo tra il mondo dell'artista e il pubblico che guardando il Tau e queste opere astratte, segniche, materiche, guardando il Tau trova una chiave di volta per entrare all'interno del mondo dell'artista e capire come per comprendere l'arte ci sia bisogno di far leva sulla spiritualità. D'altra parte che cos'è il Tau? È la ventiduesima lettera dell'alfabeto ebraico, è un simbolo, un segno che i francescani adoperano. Che ce l'hanno tutti i francescani. E' un segno che ci manda Ezechiele e quindi vuol dire sviscerarlo un attimino e fare in modo che questi segni diventino più familiari, che il Tau diventi proprio una chiave di lettura. Il critico fa delle cose semplici in fondo. Bene, questo ci fa veramente piacere perché ha dato anche contezza di quella che è l'ultima era di Menozzi, quella dedicata al Tau. Ora, mi passi, non è tanto ognologismo, ma può essere proprio una comparazione d'epoca, di era. Possiamo parlare di Tauismo Menoziano. Ma la passi, Ferlisi? Ma è una cosa bellissima. È una cosa, lei gioca con le parole. È il mio mestiere, quindi. Critico quasi, no. Si potrebbe davvero scherzando parlare di Tauismo. Ecco, perché altrimenti diventa ancora più complicata. E perché no? Perché grazie a questo simbolo, a questa svolta, noi abbiamo avuto un aggiornamento completo della sua pittura che partiva da elementi figurali e poi mano a mano questi elementi figurali che erano anche sorpassati, che avevano senso magari negli anni 70, agli inizi degli anni 80, ecco che giustamente trovano questa fonte di una vena nuova, una vena straordinaria. Sì, possiamo parlare di Tauismo. Bene o male perché abbiamo coniato, soprattutto mi è stato passato, quella che è una mia identificazione dei vari cicli di Giuseppe Menozzi. Grazie Gianfranco Ferlisi. Grazie a lei e grazie a tutto il pubblico. Con noi abbiamo l'editore dell'Enciclopedia dell'Arte Italiana, il dottor Ramella, che viene da Milano. Allora, l'arte italiana, possiamo fare praticamente dei trattati e star qui mesi e mesi. Qui c'è l'arte di Giuseppe Menozzi. Come viene classificato a livello proprio di impatto con il pubblico? Allora, per quanto riguarda un discorso tecnico, io lascio poi la parola al professor Alberto Moioli, che è la persona più indicata come direttore editoriale. Io posso solo dire che sono rimasto emozionato quando, due anni fa, Giuseppe Menozzi è stato nominato l'artista dell'anno dell'Enciclopedia d'Arte Italiana. E sono rimasto emozionato quando ho visto le opere che abbiamo pubblicato. Devo dire delle opere di un livello eccezionale, anche perché c'è un po' l'excursus della sua vita, nel senso che si parte dalle prime opere che sono un po' differenti poi dalle ultime che hanno un loro imprinting particolare, che però dimostrano una qualità di un maestro eccezionale veramente. Per cui sono veramente orgoglioso di essere presente oggi alla presentazione di questo film che riguarda la sua vita e un po' tutto il suo escursus. Le storie dell'arte in generale, ma è nel momento in cui tutto quanto è liquido, come la musica, tutto si scarica da internet. Ecco, un'enciclopedia, come me la ricordo io quella con le pagine, che profumavano, oggi vendi ancora, rende? C'ha mercato? Allora, dipende da cosa uno produce. Noi cerchiamo di fare una cosa di un certo livello, poi chiaramente non possiamo essere noi a dire sia di qualità o meno, però possiamo dire che dei musei internazionali ci hanno richiesto i volumi a pagamento. Credo che non esistano altri editori che abbiano avuto questa fortuna. Sto parlando di musei svizzeri e musei tedeschi, sto parlando di nazioni che non amano particolarmente gli italiani. Per cui vuol dire che evidentemente hanno sfogliato e quel profumo che dice lei e quella carta di qualità evidentemente l'hanno apprezzata. Per cui noi diciamo solo questo che è un dato di fatto. Poi l'ardua sentenza ai posteri. Dall'editore siamo passati al direttore editoriale dell'Enciclopedia dell'Arte Italiana. Ecco, l'editore ci ha parlato di una cosa molto importante. I musei svizzeri e tedeschi sono i principali richiedenti e acquirenti dei vostri prodotti. Sì, allora l'Enciclopedia dell'Arte Italiana si è evoluta nel tempo. Adesso è diventata, l'avrà detto sicuramente Dottor Ramella, bilingue. Quindi la parte inglese ci ha consentito di consegnarle ai più grandi musei del mondo. Perché la Tate Gallery ad esempio ce l'ha messa addirittura nel bookshop. E poi sì, effettivamente la Svizzera, la Germania addirittura si lamenta quando siamo in ritardo a consegnarle. Nel senso che hanno davvero piacere ed è un vero grande onore anche perché sono all'interno di musei. Quello di Zurigo soprattutto è un museo meraviglioso e molto importante. Quindi è assolutamente un onore per noi e anche per gli artisti. Il discorso è nato con l'editore, visto che è considerato che oggi tutto si scarica attraverso internet, attraverso telefonini, tablet, neanche i computer. Oggi è un approccio diretto, immediato. Però ha cambiato l'approccio indubbiamente. Quindi come viene vissuta l'arte che si fotografa attraverso, magari si scarica, come dicono oggi coloro che usano il web in maniera certosina e quasi quotidiana, perché è entrata nell'uso e nel consumo di tutti quanti noi tutti i giorni. Allora, io sono un critico un po' anomalo sicuramente. E forse tutta questa, forse sto anche invecchiando, forse tutto ciò significa spesso velocità. Con tanti pregi e tanti difetti, velocità, nel senso di una fruizione immediata è più semplice e forse anche più alla portata di tutti. Però poi dobbiamo arrivare in un museo, dobbiamo arrivare davanti a un quadro, dobbiamo avere la forza, la capacità, la pazienza di fermarci un minuto in più, perché solamente fermandoci quel minuto in più davanti a un quadro possiamo scoprire, in Giuseppe Menozzi ad esempio, visto che siamo qui, alcune peculiarità dell'opera, possiamo scoprire l'animo di un artista importante come Giuseppe o come molti altri, che nascondono attraverso i simboli, attraverso certi cromatismi o certa disposizione di spazi e vuoti nei loro quadri, elementi che ci donano quell'emozione e che ci fanno davvero gioire e godere del mondo dell'arte. Bene, grazie direttore. Noi abbiamo curiato poco fa con un critico modenese una sorta di neologismo, ma che è praticamente una corrente individuale di Menozzi. Il taoismo menoziano, che è praticamente la parte spirituale che da vent'anni Menozzi sta esternando nelle sue tele. Io so che lei però ha una passione particolare, quella per il nostro operatore. Io faccio un lavoro bellissimo perché io parlo d'arte tutti i giorni, racconto gli artisti e mi capita a volte di incontrare davvero persone speciali che sono giornalisti come lei, sono operatori cameraman come Alessandro che ha appena compiuto gli anni e quindi io davvero credo che come critico e come amante dell'arte sono portato, o comunque dovremmo essere un po' tutti portati, ad avere quella sensibilità in più e quindi ad appassionarci non solo alle cose ma soprattutto alle persone e agli animi buoni come voi e ritorno ancora a Menozzi che è soprattutto un uomo buono. Bene, grazie, grazie al nostro amico Alberto Moglioni che è il direttore editoriale dell'Enciclopedia d'Arte Moderna. Grazie maestro. Questo è l'incontro dovuto tra l'operatore e Moglioli che io conosco per la prima volta ma non mancheranno altre occasioni per venirla a trovare magari a Milano, grazie. Grazie a lei, grazie. Auditorium dedicato a Rita Levi Montalcini, siamo a Mirandola che un po' è stato il fulcro come abbiamo detto in apertura del sisma, ma l'abbiamo detto praticamente facendo vedere tutte quante le realtà che sono state ricostruite, quindi siamo andati un po' con la storia indietro nei tempi. Mirandola è un po', come dire, maestro Menozzi, il simbolo di questa area che si chiama Bassa Padana. Sì, è la Bassa Padana, è chiamata così e qui c'è l'unione dei comuni della Bassa che sono nove e che comunque sono stati tutti concordi nel promuovere questa iniziativa di presentare questo documentario sulla mia vita qui. Gli intenzioni iniziali erano, avremmo dovuto fare Roma, perché è una produzione romana, ma giustamente quando è intervenuta la regione, come intervento dell'unione dei comuni, hanno detto che qui è una zona dove lei è nata, dove comunque ci vive e comunque noi siamo nella capitale, Mirandola, nella capitale un pochino di tutta la Bassa, quella che rappresenta la Bassa ed è un cratere del terremoto, questo è uno dei punti fondamentalmente più colpiti. Quindi ecco la scelta di questo luogo. Peraltro lei è nato qui, quindi... Sono nato qui a Mirandola, quindi ecco, e credo che sia stata la scelta più consona e forse più logica per tutta questa operazione. Esatto, perché qui esiste anche l'unione dei comuni modenesi dell'area nord. No, di questo è proprio l'area nord, sono nove comuni, non le... Almeno la finale Emilia, che praticamente è la... Sì, la finale Emilia fa parte di... Prima della provincia di Ferrara, l'ultimo comune a nord-est di Modena colpito dal sisma. Certo, benissimo, quindi grazie ancora. Grazie a tutti.